ben a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi siamo qui tornati su clash royale cioè oggi siamo tornati qui in un nuovo video da tanto tempo che non portavo la scena da ieri però ho fatto un video piccolissimo e niente oggi faremo tre partite anche se le pareggio però voglio far tre partite tanto vero iniziamo subito livello 8 mamma che fortuna allora come vedete sto a 2720 trofei devo salire un po' però non riesco a trovare un deck mamma mia ragazzi mettete ragazzi tannissimi tannissimi ragazzi mamma quanto danno facciamo mamma mia ragazzi quanto danno facciamo mamma mia ragazzi quanto danno facciamo facciamo la torre ragazzi mamma mia ragazzi cioè buonissimo ho messo in massino e la prima credo che già è vinto ormai cioè non è chi ci vuole tanto è spero non ciò di tiro però quello è il problema devo mettere questo ecco un po' di danno ce l'ha fatto però mettiamo un bel tronco così non ci fa tanto danno un colpo ce l'ha fatto per dettagli noi ci riprendiamo solo così vinciamo all'inizio mamma mia la goduria quando ha messo il massino c'è solo a cingola rapido mai risparmeli sì perché no sennò ah di nuovo di nuovo lui mette tutta questa roba zappa la vigna zappa la della vigna è un po' di danno ce l'ha fatto ce l'ha i danni ce l'ha mo ce l'ha i danni eh mo ce l'ha i danni eh raga non so se ci riuscirò a vincere amo l'elisi per due finalmente se no è difficilissimo è difficile comunque momento che difende è difficile proprio zappa della vigna allora ragazzi ci difenderemo adesso tu per tu con il portiere ci difendiamo c'è la farba non credo però attacchiamo ragazzi attacchiamo eh attacchiamo che è meglio allora 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 eh ma questo è il problema allora andare a portare nel portiere guarda eh niente ragazzi ragazzi le partite pareggia niente lo continuiamo diventare al subito mamma mia che zappa ragazzi zappa zappa la vigna proprio zappa la della vigna proprio eh mi ha fatto un po' di danno però eh però mi ha spiegato un bordello di elisir dovrebbe avere tipo un'urda eh bravo eh ma come dite i fendi eh minchione scusate ragazzi però ti difeso anche perché ovviamente è l'isir infinito ovviamente mo c'ha anche il domatore cioè lo potrebbe anche mettere potrebbe anche mettere o lo mette lui perché lo so lo ringrazia però è finito allora vediamo che fa stavolta vediamo se mette in oro ah che ha messo il massino culo oh mamma mia quanto riserva quanto se farò adesso gli faccio big danno il big danno adorre allora o mi difendo qua o mi difendo là ci fai ci fai andiamoci qua eh eh purtroppo no la tua mia me la fa sì la tua mia me la fa ah un altro mastino ovviamente eh danno però io ho fatto sì sì mamma mia quanta roba ha messo quanta roba ha messo in campo quanta i big danno mi fa però mi fa tanto danno lui allora allora grazie sì ho detto ragazzi allora a sette minuti ragazzi quindi no la terza partita non la facciamo sette minuti il video forse la facciamo un altro gioco non dico un cesto è bello cesto quindi non le faccio perché guardare volevo una molto guarda c'è uno di tantissimi anni fa guarda qua tre carte mi da guarda quante carte mi da 11 quindi no adesso niente si si ragazzi mio padre non lo so che ha fatto vabbè ragazzi non facciamo il prossimo video cioè la prossima volta facciamo un altro giorno e ragazzi credo che domani faremo triple crack quindi devo portarlo domani sempre verso quest'ora sempre non so che adesso sono le 6 25 sempre verso le 7 e niente ragazzi ci vediamo nel prossimo video bella a un video a un video a un Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.